eccoci e allora come abbiamo detto Cinzia il caso agli generi, un giallo un puzzle che deve ancora prendere forma, si cerca di... molto misterioso molto misterioso, che abbiamo già trattato comunque, lo trattiamo ancora con Mauro Valentini, che mi studia con questa mezz'ora insieme, Mauro un giallo che deve avere molte risposte perché è difficile ricostruire proprio esattamente la storia la serata la serata assolutamente sappiamo tutti purtroppo la fine che ha fatto Alice, di una persona che è andata all'estero poi fermata dalle autorità francesi con la compagna di lui che sentendo anche le intercedazioni, prima da una versione poi da un'altra, Mauro, qua siamo proprio all'interno di una matrioska comunque, quando si cerca anche qui di arrivare ad una soluzione e si dice forse siamo vicini alla svolta esce qualcosa fuori ma è un personaggio quello che è attenzionato insomma che è sospettato che comunque è un personaggio molto particolare che nella zona era conosciuto aveva già fatto ne aveva già combinate diverse lì ed è attenzionato anche per diciamo per la particolarità del movimento che lui fa insomma no a gennaio sarà trasferita in Italia a gennaio si pensava all'inizio che dovesse tornare a breve invece sarà praticamente gennaio no la cosa più che altro e che poi fa anche propendere verso di lui possiamo dire poi naturalmente dovremmo aspettare ancora i fatti al 100% è che proprio la compagna stessa che non hai bisogno di dover cambiare la versione dei fatti se sai che qualcuno è stato lui o cose del genere invece il fatto che lei cambi versione cerca di proteggerlo cerca di proteggerlo però proteggerlo da che cosa? da una situazione che stiamo vedendo tutti quanti e là io metto il punto interrogativo ma insomma la macchina con la macchina di Alice passa davanti casa di lui punta col Google Maps e l'indirizzo suo di casa lui è lì insomma voglio dire è che lui sappia che cosa è successo questo è chiaro e allora cerchiamo anche di analizzare tutta quanta la situazione attraverso l'analisi di quella che è ora come ora la figura pardon principale della situazione del caso Alice Neri stiamo parlando per l'appunto di Mohamed Galul perché poi in tutto ciò ricordiamo anche che il modus operandi che ha portato alla morte Alice è stata di una cattiveria di una crudeltà di un'atrocità di un'atrocità unica da far venire veramente i brividi perché non solamente la morte è il fatto che poi sia stata carbonizzata carbonizzata letteralmente all'interno della macchina allora parliamo cerchiamo di analizzare proprio questa situazione cercando anche qui di ricostruire i pezzi sia da una parte giornalisticamente parlando con Mauro ma anche psicologicamente con la dottoressa Virginia Ciaravolo buonasera dottoressa buonasera buonasera a voi allora parlavamo proprio del modus operandi di una violenza che tipo di omicidio è questo proprio crudele atroce assolutamente sì l'ipotesi più accreditata o quantomeno quella a cui mi ci sto affezionando sempre più è quella probabilmente di un predatore sessuale tra i più cattivi tra i più terribili cioè tra il sadico e il dominatore e può essere verosimile dottoressa l'ipotesi che io faccio è che ci sia stato ho la sensazione comunque che si conoscessero perché in genere questa tipologia di sex offender di predatori sessuali può agire anche operando su sconosciuti ma il più delle volte ci sono diverse tipologie e profili riguardo i sex offender la sensazione è che si conoscessero anche l'ultima testimonianza che poi è venuta fuori quella che racconta di aver visto questa macchina con una donna all'interno che abbassa il finestrino e che lui le cinge la nuca e la braccia che poi passa dall'altro lato fa pensare che probabilmente ci fosse una conoscenza tra i due la sensazione è probabilmente di un rapporto sessuale rifiutato o comunque questo potrebbe essere il motivo perché infatti le stavo chiedendo ma insomma che cos'è che può portare a un omicidio del genere anche con queste modalità quindi un rifiuto oppure allora strano a dirsi quando parliamo mettiamo per ipotesi che quella della violenza sessuale sia quella che rientri in questa situazione in realtà il rapporto sessuale c'entra poco il problema più grande è dato dal fatto che c'è un dominatore c'è un uomo che non tollera il rifiuto da parte di una donna ma potrebbe non essere un rapporto sessuale o qualsiasi altra cosa non si concepisce che dall'altro lato ci sia una persona che possa dire un no però io faccio fatica a capire Mauro perché carbonizzarla cioè vuol dire che tu hai nella tua mente credo la volontà di proprio non farla neanche riconoscere o di cancellare le prove probabilmente certo che il personaggio quella notte stava cercando una vittima la sensazione che abbiamo è questa sempre che sia confermata la sua azione criminale lui poco prima chiama un'altra donna le 3 meno 10 di notte fa una telefonata a un'altra donna dicendogli che lui è a piedi e che deve se lei in qualche modo lo può aiutare per un passaggio però lei è spaventata e dice di no non solo ma lui comunque è in bicicletta arriva lì quindi sembra proprio un'azione definita come dire una sorta di lista di telefoni e di chiamate che probabilmente lui già conosceva con delle persone che lui già conosceva e tra cui probabilmente anche Alice quindi lui chiama una questa forse capisce che c'è qualcosa che non va e si salva e quindi ne chiama una o meglio o la trova o addirittura la chiama perché la sensazione che si ha come diceva Virginia è che quest'uomo in qualche modo disponesse dell'amicizia e della compiacenza di un certo numero di persone ma quella notte se ripeto se sempre se sarà confermata la sua responsabilità sarà importante lui cerca una vittima perché quella notte ha bisogno di una vittima però io chiedo chiunque sia stato nel momento di ridurre un corpo così sembra quasi che si abbia l'intenzione di cancellarlo però dottoressa posso aggiungere una cosa mi è venuta in mente proprio adesso devo cancellare le prove perché noi a telecamera spente abbiamo parlato di questo però a me adesso mi è venuta in mente il fatto di aver compiuto un'azione talmente macabra e in quel momento realizzare di ciò che si è fatto potrebbe aver portato se tutto confermato naturalmente Mohamed ad agire in questo modo anche per paura del tipo che cosa ho fatto adesso non posso permettere di andare in grado vedo già che fa di rocco la testa no no perché allora propendevo per una violenza sessuale perché mi è sembrato di leggere tra le varie notizie che vi è una precedente denuncia per revenge porn quindi per un ricatto sessuale ai danni di un'altra donna ci troviamo di fronte ad un manipolatore a un narcisista a un dominatore un arcaico esatto e ci troviamo di fronte all'uomo che ha un'educazione primitiva di tipo arcaico che tende a vedere le donne come oggetti a mio parere non è cancellazione delle prove ma è cancellazione dell'identità della donna che non è fissile che è utilizzata è un po' come accade nei femminicidi quando si utilizza il fuoco o l'acido l'acido esattamente brava brava perché ti devo sfigurare in qualche modo carbonizzandola infatti questo conferma anche allora in caso proprio quello che diceva la dottoressa il fatto che siamo di fronte ad una persona eventualmente da una mentalità talmente arcaica che non rispetta anche la figura femminile questo è chiaro quello è anche un po' per cultura però io tra l'altro dispone anche della compiacenza della moglie per cui c'è proprio una sorta non solo di dominazione ma proprio di compiacenza di capobranco quasi di un gruppo di donne che evidentemente e questo mi lascia molto mi lascia molto basito ma che comunque aveva rapporti con lui cioè chi non ha mai ucciso perché ipotizziamo che non lo abbia mai fatto può fare direttamente una cosa così dottoressa cioè bruciare un corpo certo voi parlavate prima parlavate prima di campiti no non aveva altri omicidi nella sua vita eppure ne ha ammazzato quattro e attenzione ha ammazzato quattro donne lì c'era un gruppo di uomini e donne io non credo sia un caso che abbia ammazzato quattro donne eh può essere che ci sia un motivo perché l'arma si è inceppata lì in quel caso lui voleva ammazzare tutti quanti però di fatto però di fatto sono state colpite le prime sono state loro le prime sono state loro le prime sono state loro sì ha sottolineato un elemento al quale noi prima non abbiamo fatto caso sì infatti è vero però allora ecco tornando e collegandoci proprio a questo che lei ha appena detto dottoressa la domanda sorge spontanea comunque la compagna che nonostante tutto ha la volontà anche di volerlo coprire nonostante sia di fronte comunque come ha snocciolato lei una persona con una mentalità arcaica che ha portato anche se confermato ad una situazione del genere come fa ad essere una sorta di incantatore di serpenti in questo caso perché una persona del genere bene o male di impatto si va a capire che tipo di persona è di fronte e che evitare così come ha fatto quella persona che è chiamata alle 3 di notte ha detto no grazie io non vengo allora qui ci possiamo trovare di fronte a diverse ipotesi intanto di questa donna greca sposata da appena una settimana sappiamo molto poco potrebbe essere a sua volta vittima di questo manipolatore che sono molto bravi a mimetizzarsi in certi contesti oppure può essere una distorsione cognitiva che porta a minimizzare la colpa del marito per evitare di sentirsi la moglie del mostro assolutamente è una sorta di meccanismo difensivo per salvaguardia di tutti stessi però il meccanismo difensivo porta anche ad un'altra parte ovvero tua vita mea possiamo metterla in questo caso perché poi alla fine si sta realizzando questo e sì però è anche vero che lei è sposata da una settimana non sappiamo che tipo di relazione non sappiamo quanto è imbrigliata la faccio riflettere sul fatto che per esempio le donne vittime di violenza riescono a denunciare anche dopo 15-20 anni eppure dormono col mostro nel letto questa cosa fa venire i brividi comunque anche perché è proprio la cattiveria la semplicità della cattiveria utilizzata Mauro fa paura anche perché poi noi stiamo parlando se sarà su se sarà lui adesso diventa fondamentale la sua deposizione quando tornerà nuovamente in Italia non si stanno percorrendo in questo momento no perché poi ecco le telecamere di sorveglianza il fatto che la intercettazione ti porta a sentire la compagna che dice stai attento perché io dirò a loro non so dove diavolo ti trovi testuali parole cioè il fatto come ho detto prima cioè se quella persona è una persona che non c'è entrata in questa cosa tu non avresti bisogno di difenderla e dire no guarda non dico che te ne sei andato via perché tu sei scappato dieci giorni dove non si è più stato dove tu fossi io ho la sensazione che quella lì sia stata una notte molto difficile molto particolare nella notte in cui muore Alice dice perché c'è un incontro diciamo non palesato con un collega da quello che ho capito era un collega stavano sette ore dentro a un bar diciamo quasi semi nascosti dentro a un bar mentre lei ufficialmente doveva stare a una riunione con dei colleghi di lavoro succede qualcosa con quest'uomo probabilmente sì perché quest'uomo va via e la lascia lì lei non va non va via ma digita prima l'indirizzo di casa poi cancella e mette l'indirizzo di questo di Mohamed di questo accusato e poi fanno dei giri concentrici intorno con la macchina e a un certo punto c'è un percorso che mi ha colpito molto e che quello è anche oggetto di indagine cioè di un percorso che si può fare in due minuti e lei ce ne mette undici con la macchina stiamo parlando di un movimento di un passaggio in una strada deserta alle 4 di notte che cosa sta succedendo in quel momento non lo sappiamo in fondo non sappiamo neanche come è morta Alice potrebbe essere stata uccisa addirittura dal fuoco potrebbe essere stata uccisa invece prima potrebbe essere stata drogata potrebbe essere successo un'azione di stupro di gruppo per cui poi a un certo punto è andata è andata male perché lui magari che ne so si è fatto aiutare da qualcun altro prima nell'azione sessuale e poi non sappiamo nulla quello che non è chiaro non abbiamo un telefonino non abbiamo niente che possa spiegarci è il fatto anche che manchino per il telefono sì però i movimenti della macchina li abbiamo e quei movimenti sono completamente astrusi assurdi sembrano quasi una sorta di delirio che dura due ore però per cui insomma è una situazione su cui riflettere ma bisognerebbe anche riflettere su quello che è accaduto prima perché quelle sette ore perché bisogna capire lo stato emotivo di Alice che cosa l'ha portata ad accettare di far entrare volontariamente da quello che sembra però qualche testimone c'è perché il bar non è che era vuoto anche chi lavorava lì quella sera qualcosa può aver scarpito sì però si parla di boh di effusioni loro si erano si baciavano discutevano forse boh non lo sappiamo quello che non è chiaro è quello che è accaduto prima che forse ci potrebbe dire quello che ci potrebbe portare a capire quello che è successo perché bisogna capire lo stato emotivo di una ragazza che non può essere impazzita di colpo ma che evidentemente aveva una situazione psicologica probabilmente un po' più fragile di quello che possiamo ipotizzare ed è stata assalita da uno approfittando della fragilità della persona che è il più classico dei classi oppure di qualcosa per esempio dovuta a droga o dovuta a una droga involontaria per esempio non trapela nulla cioè perché perché chi secondo me perché chi ha colpito poi sentiremo Virginia ma la mia opinione è che chi è stato con lei quella sera ha qualcosa da nascondere tutti quelli che l'hanno incrociata hanno qualcosa da nascondere dottoressa una lettura che ci sta che ci sta questa allora la sensazione intanto è che noi non abbiamo ancora il tunisino qui in Italia per cui scoprire le carte io lo troverei anche controproducente però sono d'accordo con Mauro ci sono delle cose che non tornano o che comunque sette ore ad un tavolo con una donna al di là delle effusioni insomma ci sono state raccontate in un modo proprio frammentario e minimo dalla persona dal collega col quale si è incontrato sembra un chiarimento no Virginia più che sette ore sono tantissime ma che ti dici sette ore esatto sono state ridotte a molto poco almeno o quantomeno questo è quello che noi sappiamo però quest'uomo non ha raccontato assolutamente nulla il fatto che lui non abbia aspettato la possiamo chiamare sciatteria superficialità mancanza di garbo nei confronti di una donna ma la possiamo anche ipotizzare come qualcosa che è andato storto un eventuale rifiuto per cui va via senza volerla aspettare così come pure mi sembra strano il fatto che gli arrivi un messaggino perché chiede a lei di avvisarla quando arriva a casa però lo vede non lo apre ma lo legge l'indomani mattina non regge no assolutamente però allora ecco dottoressa visto che siamo all'interno di un vero giallo lo possiamo definire in questo modo molti infatti adesso stanno analizzando la situazione relativa a Mohamed Galul dove praticamente tutti Mauro dicono anche se vira la sua testimonianza dove ci sono i punti interrogativi come hai detto te sempre che ce la proprio su questo in questo volevo andare a parare dottoressa perché la sua testimonianza sarà fondamentale ma chi ci dice che quella testimonianza aprirà totalmente il vaso di Pandora la domanda da un milione di euro come si suol dire questa non ce lo dice nessuno lui si capisce già e si capisce anche dal nucleo attorno a lui è stato intervistato anche uno zio stanno facendo tutti quadrato la verbalizzazione non siamo soggetti da fare quelle cose la moglie lo difende quindi ormai sappiamo lui che cosa verrà a dire sarà difficile che un soggetto del genere sia commesso una cosa del genere che ci dia una confessione chiara e aperta dovranno essere bravi gli inquirenti ad interrogarlo a farlo cedere a farlo cedere che qua è la situazione dei dettagli questo mai come adesso è la situazione dei dettagli oppure oppure la procura che sta indagando ha in mano un testimone chiave che ha tenuto nascosto e che probabilmente farà da accusa diretta a lui il marito è stato sentito il collega è stato sentito probabilmente qualcuno siamo noi che non sappiamo io vorrei tanto sperarlo c'è un testimone invece che è l'elemento chiave per poter rincastrare l'accusato e lo spero fortemente perché altrimenti sarà complicatissimo trovare un responsabile in una storia come questa perché è così complicata e il corpo non ci darà delle risposte purtroppo perché è stato scientificamente messo lì dentro e chiuso voglio dire voglio aggiungere che bruciare una donna nella sua macchina non è che significa cercare di mascherare di chi sia il corpo significa mascherare le prove perché certo che dentro la sua macchina non può che esserci lei insomma per cui l'idea che mi sono fatto è che dopo i primi istanti in cui è stata uccisa ci sia stato un ragionamento che è durato anche qualche ora su come procedere e quell'azione lì la spiega non di un attacco non di un uomo colto da un impeto e che poi si pente ma che abbia invece molto ben chiara la situazione assolutamente chiara e soprattutto dottoressa dobbiamo anche puntare su un altro fattore ovvero il fatto che si sta parlando di giallo e quindi di caso da risolvere senza dimenticare qual è il centro della questione ovvero che ancora una volta per non dimenticare proprio qual è la situazione è che ci troviamo di fronte di questo lei ha anche trattato l'argomento all'interno di un suo libro mi corregga se sbaglio violenza sessuale verso le donne e ogni volta siamo lì ad analizzare situazioni che diventano sempre più tremende guardi i dati EURES che sono usciti il 25 novembre ci raccontano di una della violenza nei confronti della donna che rimane più o meno stabile rispetto all'anno precedente ma sono aumentati i reati sessuali e soprattutto la cosa terribile si è abbassata l'età dei predatori sessuali sono molto molto giovani ecco naturalmente non aiuta nei episodi di questo tipo senta prima di salutarla allora le volevo chiedere vista anche la situazione delicata anche da parte di Galluc che con ogni probabilità non andrà avanti con una confessione totale e aperta c'è il rischio che questo giallo possa andare avanti per un po' di tempo? penso proprio di sì Mauro tu che cosa ne pensi? io penso che se non abbiamo una carta nascosta da parte della procura io penso che questo caso potrebbe addirittura rimanere senza colpevole perché o c'è qualcuno che ci viene a raccontare esattamente cosa è accaduto il che è abbastanza complicato vista l'ora e vista la zona non stiamo parlando di Roma o di un'altra città o di Milano stiamo parlando di un posto dove probabilmente si passino osservati pure alle 5 del pomeriggio ma se non c'è una testimonianza o una prova scientifica che loro stanno nascondendo per metterla a confronto con il principale indagato ho la sensazione che Alice rischi di non avere giustizia questa è proprio la speranza che vogliamo scudere speriamo di no speriamo che il colpevole venga preso e condannato nel breve tempo possibile come si deve come si deve assolutamente torneremo naturalmente sul caso di Alice Nerico giusto e sì lo faremo se vorrà con la dottoressa Regina Ciaravolo che ringraziamo per averci fatto con la mia grazie dottoressa buon lavoro e buon Natale nonostante il tema buon Natale grazie buon Natale anche a Mauro ringraziamo Mauro Valentini a cui auguriamo buon Natale noi ci rivedremo dopo le festività se vorrai anche tu certamente voglio fare gli auguri di buon Natale innanzitutto a voi che siete stati una bellissima scoperta di questi ultimi mesi grazie e poi a chi ci ascolta con tanta che ci vede attenzione e pazienza certamente insomma voi due siete ascoltabili bellissimo per cui non credo che facciano un grande sforzo a rimanere svegli fino a mezzanotte e mezza grazie grazie per lo spot grazie davvero e allora noi ci fermiamo ancora Mauro Valentini e poi ci fermiamo perché torniamo subito andiamo ad analizzare un tema spoileriamo anche qua velocemente perché questo è anche questo è un argomento deciso perché si parla sempre di suspense eh sì dai pedofilia però non così come purtroppo la conosciamo da un altro punto di vista grazie a tutti